Fatemi vedere chi siete Ah, ciao Alessandro, ciao Massimiliano, ciao ragazzi, come state? Allora, credo che oggi non siamo tantissimi qua in diretta Poi magari lo lasciamo, lasciamo il video comunque registrato ai posteri, diciamo Che se lo possono riguardare la prossima volta senza grossi problemi Come sempre, datemi conferma Intanto vi scrivo qui C'è un po' di differita, quando registro con la camera questa qui, da questa parte C'è un po' di differita rispetto ai messaggi, quindi arrivano qualche secondino dopo Bene, mentre invece il mio messaggio quando scrivo arriva subito Allora, l'altra volta stavamo parlando di frequenza cardiaca Le varie soglie di allenamento Vi ho fatto il Fatemi prendere Pennarello Vi ho fatto il Grafico con le varie Frequenze cardiache 70% 80% 90% 100% Le varie intensità Corsa lenta Quindi trovate poi tutto quanto comunque come sempre Nelle lezioni registrate Sia su Teachable, sulla piattaforma E sia sul Su comunque il gruppo Il gruppo su Facebook Se scorrete i video La sezione foto Giù in fondo trovate anche i video registrati lì E ne parlo abbondantemente Però mi sembrava giusto Comunque riapprofondire l'argomento Mi sembrava giusto riparlarne Non rivado su questo Spero che sia chiaro Quindi che Comunque ogni intensità Corrisponde a una frequenza cardiaca Che comunque se andiamo piano Ci alleniamo Alleniamo una determinata cosa Se andiamo veloce Ne alleniamo un'altra E cose del genere Oggi voglio andare più nello specifico Oggi voglio andare più nello specifico Ah ecco Stiamo mentando ragazzi Chi c'è online? Bravi ragazzi Ciao Mauro Ciao Matteo Ciao ragazzi Grandi Come sempre se avete domande Scrivetele nei commenti E appena posso Mi fermo un attimino con il discorso E vi rispondo Quindi Tranquillamente chiedetemi qualsiasi cosa Se non vi è chiaro Quindi Cancellino Oggi mi sento molto maestro Allora Ecco guarda Che non cancella anche niente No Aspettate Mamma mia È sporchissimo Proviamo a cambiare Proviamo a cambiare Pennarello Allora Oggi invece Voglio andare A parlare Dei vari mezzi Di allenamento Quindi Oggi voglio Analizzare Nello specifico Quello che in teoria Dovreste già sapere Quello che in teoria Dovreste già sapere Allora Vediamo se Ve lo faccio Vedere da qui Ve lo faccio vedere da qui Così Aspettate Io intanto Parapapam Faccio un po' da Così Così Sto cercando di cambiare Inquadratura Quindi Tutto regolare Non succede niente Vediamo Eccoci Ok Scusate Tutto in diretta Quindi Non ho nessuno Che lo fa per me In teoria Dovreste conoscere A memoria Il mio sito internet Quindi dovreste già sapere Tutto quanto Quello di cui vi sto parlando E dovreste sapere A memoria In particolare Questa pagina Perché Tutti i miei allenamenti In pianura Si basano comunque Su questa teoria Quindi Qui ci sono Per esempio I cinque tipi diversi Di allenamento La corsa lenta Ritmo in maratona Corsa in soglia Interval training Ripetute E Partiamo dalla corsa lenta Che viene corsa Intorno al 65 Il 78% Della frequenza Cardiaca massima Ma il 68 Il 78 Scusate Non dovete arrivarci Cioè Ragazzi Meno Quando è corsa lenta Più è lenta E meglio Poi per spingere Abbiamo tutto il tempo Tutto quello che volete Però Quando parliamo di corsa lenta Mi levo la ferpetta Quando parliamo di corsa lenta Mi raccomando Deve essere Vera corsa lenta Io Faccio la mia corsa lenta Questa mattina Ho fatto una bellissima Corsa lenta Cosiddetta Rigenerante Comunque Di scarico Di recupero E E sono partito A 6.30 Senza farmi grossi problemi Il giorno prima Ho fatto un allenamento Sottile a 3 km Quindi Fondamentalmente Nonostante Posso andare veloce Quando parlo di corsa lenta Io intendo Vera corsa lenta Quello che il corpo Mi dice di fare Quindi questa mattina Il corpo era stanco Ancora dall'allenamento Prima E E ho fatto una vera Corsa lenta Diciamo Di scarico Perché comunque Il corpo Più di quello Sentivo che non andava E alla fine Credo che è uscito fuori Un allenamento A 5.30 Cosa del genere Che succede poi Oggi omeriggio Ho fatto Un'altra Corsa lenta Tra virgolette Però nel frattempo Il corpo ha recuperato Quindi stavo meglio E ho fatto La mia vera Corsa lenta Che secondo Comunque Le tabelle Che trovate Qui sul sito Alla fine Trovate le tabelle Da cui ricavare I vari ritmi Di allenamento Alla fine La mia corsa lenta È intorno Ai 5 km Più o meno E oggi omeriggio Stavo bene E ho potuto fare Una vera Corsa lenta E sfruttare al massimo Diciamo Il mio potenziale Al 100% Ok Stavo leggendo I commenti Stavo leggendo Il commento di Mauro Vai pure Io te ne faccio Una alla fine Che non c'entra Con la lezione Un consiglio Ok Quindi Dicevamo Corsa lenta Che sia vera Corsa lenta Poi in base A come vi sentite In base a come state Da lì poi ragionate Su cosa fare Quanto andare Se io non sto benissimo La mia corsa lenta È a 6 Se io invece Sto bene E ho recuperato Dagli allenamenti Precedenti Comunque sto in forze La mia corsa lenta Diventa a 5 Quindi in base a quello Io riesco a capire Come sto messo Se sto fresco Se diciamo Sono più affaticato O meno E cose del genere Quindi Corsa lenta È alla base Dell'allenamento E Un concetto Che Spesso viene Sottovalutato È che la corsa lenta Comunque alla fine È allenante Spesso Pensiamo Che quando facciamo Una corsa lenta Oddio Sì no Però poi Non faccio niente Invece no Comunque Per esempio La corsa lenta Aiuta a sviluppare Mitocondri All'interno Dei muscoli Nei mitocondri Avvengono I scambi Comunque Energetici All'interno Dei muscoli E tutto quanto Quindi Sviluppare Mitocondri È fondamentale Per correre meglio E si sviluppano Soltanto Cioè Non soltanto Però si sviluppano Anche Aumentano di numero Correndo lentamente Facendo tanta corsa lenta Il cosiddetto Fondo lento Quindi La corsa lenta È allenante Tranquilli Questo è un concetto Che vi deve entrare In testa A tutti quanti E Meglio Andare piano Quindi Meglio andare Più piano Sul grafico Qui che avevamo Della frequenza cardiaca Meglio avere Una frequenza cardiaca Al 60% Della nostra frequenza Cardiaca massima Anziché lavorare Verso l'80 Cioè io prevesco Che se dovete fare Corsa lenta Andate piano Più piano andate Più sono felice Poi Quando c'è da spingere Allora lì Incominciamo un pochettino A lavorare sulla velocità E Si può fare Diciamo L'allenamento Veloce Però poi quando è corsa lenta Mi raccomando È corsa lenta E poi abbiamo Ritmo maratona Ritmo maratona Che sarebbe comunque Un Un ritmo medio In realtà Il ritmo maratona E la corsa lenta Più o meno Allenano le stesse componenti Quindi questo è anche Soltanto per Facciamo Farvi capire che Vi faccio un esempio pratico Oggi a moriggio Io ho fatto Un allenamento A 5 al chilometro E se lo facevo A 4 e 30 A 4 e 20 Cioè il mio ritmo medio Più o meno Andavo ad allenare Le stesse componenti Se invece poi Andavo intorno Ai 4 al chilometro 3 e 55 Invece gli andavo In soglia E incominciavo A lavorare comunque Sul motore Però Corsa lenta E ritmo maratona Sono simili Il problema Del ritmo maratona Del ritmo medio È che spesso Ci troviamo poi A fare soltanto Ritmo medio Ritmo medio Ritmo medio Ritmo medio Usciamo E facciamo Sempre la stessa velocità Ecco perché È la prima cosa Che comunque Dico nel corso È la prima cosa Che cerchio di spiegare E ve lo mando Già con la tabella Vi mando il link A quest'articolo Perché per me Comunque Iniziare a capire La differenza Vedere comunque Sulla tabella Dopo che avete fatto Il test del V-Dotto Ok dite Perfetto Il mio V-Dotto È 44 Da lì poi Ricavo i vari ritmi E da lì so Che devo fare Tot cosa Tot velocità Poi devo fare Ecco Diciamo che alla fine La prima cosa che voglio Che Capite diciamo È A che ritmo Dovete allenarvi Per evitare di commettere I classici I classici errori Ma Ragazzi Sono errori Che ho fatto anche io Non succede Non succede niente È assolutamente È assolutamente normale Quindi Ci siamo passati tutti Ci sono passati anche io Ci ripasserò ancora Succederà ancora Magari Speriamo di no Però Sono cose che succedono Fondamentalmente Quindi Però Io sono qui Per insegnarvi Cosa è giusto E cosa è sbagliato Quindi ragazzi Dovete distinguere Che cos'è la corsa lenta E che cos'è il ritmo Maratone E il ritmo medio Perché non sono Assolutamente La stessa cosa Possono sembrare Simili Ma non lo sono E mi raccomando Quando fate corsa lenta Fate che sia vera corsa lenta Cioè Quindi Andate Veramente piano E poi passiamo All'allenamento Che a me piace di più La corsa in soglia Io adoro la corsa in soglia È il mio allenamento preferito E Come dice qui È considerato Uno dei più produttivi Tipi di allenamento Che i corridori Di lunghe distanze Possono fare Lo scopo principale È quello di migliorare L'abilità del corpo Nel mantenere basso Il livello di acido lattico Nel sangue È bellissimo Eh sì Sviluppando in particolar modo La resistenza Logicamente io Facendo Lunghe distanze Per me Questo è un allenamento Fondamentale E Anche se Nella periodizzazione Annuale Del mio allenamento Alla fine La corsa in soglia Arriva nella seconda parte Quindi In questa prima fase Diciamo Della mia preparazione In questi primi mesi Diciamo che La mia preparazione Va da settembre Fino agosto Io così più o meno Guardo il mio anno A settembre Ricomincio a lavorare Sui fondamentali Quindi faccio Ripetute corte Ripetute corte In salita E vado a lavorare Sul motore Sulla velocità Distanze brevi Più veloci E anche se Quest'anno Non è stato Proprio il massimo Non è che Mi sia riuscito Granché Diciamo Però Alla fine Questo faccio Nella prima parte Di stagione Dopo Nella seconda Ricomincio ad allungare Le distanze E passo per L'interbar training E poi vado A finire Sulla corsa in soglia Quindi comunque Mese dopo mese Vario E Anche se Magari alcune cose Rimangono sempre le stesse Però Nella periodizzazione Comunque Nella prima fase Lavoro Sulle distanze corte Sulla velocità E nella seconda Invece Vado a lavorare Sulla corsa in soglia Allora Solitamente Per i più allenati La frequenza cardiaca Durante l'allenamento È intorno all'88-90% Della frequenza cardiaca massima E Si possono effettuare Due tipi di allenamento A questa velocità Uno È ad un ritmo costante Per 20-30 minuti L'altro invece È intervallato Da piccole pause Correndo i tratti veloci Da un chilometro Fino a un massimo Di 3 chilometri E recuperando di corsa In rapporto 5 a 1 Per esempio 5 minuti veloci Con un minuto di recupero Ok Riassumendo Io ieri Ho fatto Una corsa in soglia Ho fatto Un chilometro Di riscaldamento È uscito fuori Da sola Ho lasciato andare Le gambe Sono partito E ho fatto Un chilometro Di riscaldamento Mi è uscito fuori così E poi Poi le gambe Hanno preso Il loro ritmo Ho iniziato Ad andare A 4 km A 3,55 E sono entrato Diciamo Nella mia velocità Di soglia Anaerobica E ho mantenuto Quella velocità Per 7 km Un allenamento Di circa Una trentina Di minuti 25-30 minuti Un allenamento Comunque corto Veloce Ed è per esempio Quello che dicevano Nella prima parte Quindi si può fare Un allenamento corto Da 4, 5, 6 km Consecutivi Blocco unico 2 km di riscaldamento Prima Mi raccomando Voi non fate come me Assolutamente Lasciatemi perdere Non sono un esempio In alcuni casi 2 km di riscaldamento All'inizio E 2 km di defaticamento Alla fine Blocco centrale Corsa in soglia Unico Blocco unico Logicamente Vi consiglio Di partire Magari dai 5 km E poi andare In progressione 6, 7, 8 Questo Se magari Volete Modificare Più avanti Modificare Le tabelle Che vi ho fatto Fargli fare Un secondo passo Non Io penso Che non dovete Rimanere comunque Legati a me All'infinito Per quello che vedo io Una volta che Avete appreso Quelle conoscenze Base Prendendo anche Magari le tabelle Che ci sono già fatte Tranquillamente Potete riadattarle Un pochettino E certo Se poi volete Tabella personalizzata Ok però Io vi devo spiegare Un pochettino Come funziona Per rendervi Indipendenti E per capire Come funzionano I vari meccanismi Di allenamento Quindi Corsa in soglia Rifacciamo un attimino Qua il grafico Rifacciamo qui il grafico Ecco Questo penarello È molto meglio Facciamo così E partiamo dal 60 70 80 90 E 100 Quindi Corsa in soglia Siamo qua Ritmo medio Più o meno Siamo qua E corsa lenta La metto Qui La metto E Dopo la corsa in soglia C'è l'interval training Sull'interval training Andiamo a lavorare Direttamente sul Vmax Allora Per chi non lo sa Il Vmax È il massimo consumo D'ossigeno Cioè È la capacità Del corpo Di utilizzare ossigeno Ed è comunque Una componente Genetica Che non si può Allenare più di tanto Cioè A un certo punto Credo che Se non mi sbaglio Intorno al 20% Cioè Quindi possiamo Migliorare Il nostro Vmax Fino al massimo Del 20% Raggiunto quello Rimane quello È una componente Genetica Come quando Dicono Beh lui è dotato E una persona È meno dotata Ok Ci sono persone Con un Vmax Per genetica Più alto rispetto Ad altre Comunque Una componente Genetica C'è sempre Ed influisce Comunque Sulle prestazioni Con l'interval training Andiamo ad Ottimizzare Il nostro Vmax Quindi andiamo A lavorare Su quel 20% Che possiamo Migliorare Cercando di Spingere al massimo E Questo è il passo Successivo Diciamo Rispetto Alla corsa In soglia E ci avviciniamo Già da queste Parti qui E Lo scopo Principale Di questo tipo Di allenamento È quello Di massimizzare La potenza Aerobica Cioè il famoso Vmax L'intensità A quale va effettuato È vicino Alla frequenza Cardiaca massima Infatti la mettiamo Qui Al 95% E dal momento Che per raggiungere Il nostro Vmax Impieghiamo Circa Due minuti I tratti veloci Devono durare Dai 3 Ai 5 minuti Con recupero Il rapporto 1 a 1 Oppure si devono fare Anche tratti più brevi Sempre 400 metri Riducendo il recupero Per mantenere Il Vmax Alto Quindi Servono Almeno Due minuti Per raggiungere Il picco Del Vmax Quindi La nostra Frequenza Cardiaca Massima La nostra Frequenza Cardiaca Sale Va su Va su Va su Insieme a lei Sale anche Il Vmax Comunque E Impiega All'incirca Due minuti Per raggiungere Il massimo Quindi Minimo Devono durare Due minuti Queste ripetute Da lì poi In realtà Minimo 3 Perché Un po' Lo dobbiamo Mantenere Per lavorarlo Quindi Lo lavoriamo Un minuto E poi Scendiamo giù E recuperiamo Che cosa Possiamo fare Se facciamo Delle ripetute Più corte Quello che Dice comunque L'articolo Se vogliamo fare Delle ripetute Più corte Dobbiamo Recuperare Di meno Mantenere La frequenza Cardiaca Alta E risalire Subito Scendi E sali Scendi E sali Facendo Dei tratti Di recupero Più brevi Per evitare Di recuperare In pieno Perché Se no Nell'altra formula Comunque Il recupero Uno a uno Quindi faccio 3 minuti Di ripetuta Diciamo Di interval training Con 3 minuti Di recupero 3 minuti Di recupero Se corsi Ad una corsa lenta Diventa un recupero Completo Al 100% Questo vuol dire Che il mio Vmax È precipitato Giù Se io faccio 5 minuti Di ripetuta Con 5 minuti Di recupero È tantissimo Ed è un recupero Completo Quindi È importante Poi Farlo risalire Piccola parentesi Se recuperiamo Abbastanza Velocemente Anche Evitiamo Di far scendere Completamente Il Vmax Come ben sapete Io sono Un fan Del recupero Veloce Comunque E questo va bene Sia per la corsa In soglia E sia per L'interval training Logicamente Più andiamo Di qua E più Il recupero Deve essere Più lento E completo Diciamo Se io faccio Ripetute Come ci arriviamo adesso Quelle corte E siamo qui Il recupero È più Lento Rispetto a quando Faccio Ripetute In soglia Questa intensità E Vabbè Riapro l'argomento Tra un pochettino Quindi Interval training Serve a massimizzare La potenza aerobica Poi andiamo Ultimo punto Le ripetute Questo tipo di allenamento È il più veloce Di quelli proposti E serve a migliorare La potenza aerobica La velocità E l'economia di corsa Allora Anche se Sono ripetute corte E andiamo a lavorare Il meccanismo Ainerobico E lavoriamo qui Quasi 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 Non è detto Però L'intensità Più o meno Deve essere Vicina a quella massima In teoria Queste ripetute Sono per distanze brevi Quindi Non sono per Una maratona Una mezza maratona O cose del genere Che cosa succede Però Come allenamento Fisiologico Queste ripetute Devono comunque Esserci sempre Questo È un concetto Che bisogna capire Non è perché io faccio Maratone O ultramaratone Faccio soltanto ripetute In soglia Da 1, 2, 3 chilometri No Perché Come dice qua Per esempio Migliora La velocità E l'economia Di corsa Quindi io facendo Ripetute corte Da 200 metri Miglioro La mia economia Di corsa Cioè divento Più efficiente E consumo Di meno Il fatto di Consumare di meno Mi permette Di correre poi Più a lungo Più veloce Più facilmente Quindi Avere una struttura Muscolare Allenata Per ripetuta A 3, 30 Nel momento in cui Poi io vado Ritmo maratona 4, 20 Comunque Io ho già Una preparazione Muscolare Tendinea Comunque Nel complesso Fatta per andare Anche a 3, 30 Nel momento in cui La metti A 4, 30 Sta un filo di gas Mantiene La velocità E facile Facile Ok Quindi Questa è una cosa Che va allenata Comunque E per me È importantissimo Fare Ripetute corte Come vi ho detto Prima per esempio Nella mia preparazione La prima parte Della stagione È fatta Soltanto Di ripetute corte Poi piano piano Iniziamo a lavorare Quando il motore È pronto Quando ho costruito Una buona base Di velocità Economia di corsa Potenza anaerobica E cose del genere Allora poi da lì Vado avanti Vado E quindi Non vi dimenticate Queste sono Ripetute corte E I tratti veloci Sono da 200 400 E 600 Metri Il recupero In questo caso Deve essere Rapporto Al tempo Due o tre volte Superiore a quello Impiegato nella ripetuta Quindi se io Impiego 40 secondi Per fare una ripetuta Da 200 metri Il recupero Deve essere Almeno 4 8 12 120 Secondi Almeno da un paio Di minuti Qui il recupero Deve essere completo Qui è importante Che fate una corsettina Lenta Tra una e l'altra Qui scordatevi Il recupero veloce Tra Una ripetuta E l'altra Non è quello Che ci interessa Qui ci interessa Fare bene Ripetuta E si recupera Camminando Oppure Corricchiando Io preferisco Sempre stare in movimento Quindi una corsettina lenta La preferisco sempre E Questi sono Gli allenamenti Base Come dicevo prima Parliamo un attimino Del recupero Piccola parentesi Su recupero Quando faccio Le ripetute in soglia Il recupero Può essere più veloce Perché se io faccio Ripetute da un chilometro A 4,30 Io posso recuperare Tranquillamente A 5,10 5,20 E Recupero con il mio Ritmo medio E poi ritorno in ripetuta Faccio ritmo medio 200 metri Ritorno in ripetuta Questo permette Al corpo Di insegnare Cioè Insegniamo al corpo In questo modo A smaltire L'acido lattico Ad un ritmo alto Quindi anziché fare Ripetuta A 4,30 Recupero a 6,30 Quindi tornando qua giù Noi alleniamo Anche il nostro ritmo medio Questa è una cosa che Mi piace veramente tanto E E serve comunque per fare Un passo successivo Logicamente ragazzi Se È poco che vi state affacciando Al mondo della corsa E Non è sempre facile Seguire queste indicazioni Quindi Questo è per Diciamo Chi è un po' più evoluto Chi è un po' più allenato Chi ha un po' più d'esperienza Quindi I più bravi Vanno Vanno da qui A qui Ma se tornate un po' più indietro E arrivate fino al 70 Per me va benissimo Ragazzi Cioè non Qui parliamo di Finezze Perché Io facendo un recupero veloce Io non alleno soltanto Tutte le componenti Che alleno Durante la ripetuta Io alleno poi anche il secondo ritmo Cioè quindi diventa allenante Anche il recupero Non è soltanto allenante La ripetuta Io alleno due cose In una E questa è la cosa che mi piace Fondamentalmente Del recupero veloce Del recupero a ritmo medio Lo so che non è facile Però è un bel allenamento E fate attenzione Se state iniziando magari adesso E adesso non so bene Chi c'è in diretta Però Non esagerate Troppo con il recupero veloce Se non avete una certa esperienza E dimestichezza Sotto questi aspetti Ho una domanda Allora Maura ha scritto Nell'interval È meglio tenere il Vmax Sempre alto Quindi tratti più brevi 2-3 minuti O è meglio farli Da 5-6 minuti Per far scendere Il Vmax E Fc Ma soprattutto perché Scusa Ma non riesco a mettermi in testa Questa Nozione Meglio Meglio lavorare Sempre là sopra Allora No Interval training Allora Interval training I tratti veloci Devono durare Dai 3-5 minuti Quindi Partiamo che I tratti veloci Durano da 3-5 minuti Quindi Tratti più brevi 2-3 minuti C'è qualcuno Che ha Interval training Corto Da 2 minuti Ma è soltanto Per chi sta iniziando Un interval training Corto Da 2 minuti 2-2 Qualche cosa del genere Per rispondere Per rispondere a domanda È comunque meglio Farle da 5-6 minuti E far scendere Il Vmax Fc Allora Non c'è bene o male C'è variazione E programmazione Molti di voi Non tutti Ma molti di voi Se guardano le tabelle La tabella Nel corso dei 3 mesi Nel corso delle 12 settimane Magari ha inserito Nelle prime 4 settimane Ha un allenamento Interval training 3 più 3 Quindi 3 ripetuta E 3 recupero Nella seconda fase Diciamo Perché avete visto La tabella è divisa 3 settimane di carico 1 scarico 3 settimane di carico 1 scarico Quindi Nel secondo blocco Chiamiamolo così Nel secondo blocco Magari invece c'è Interval training 4 più 4 4 ripetuta E 4 recupero Nell'ultimo blocco 5 più 5 Quindi ecco Questo è Una progressione Nel corso del tempo Non c'è giusto O sbagliato Ma c'è periodizzazione C'è variazione L'importante È variare sempre Gli allenamenti Spero Di aver risposto Alla domanda Se ho capito bene La domanda Qual era Per farlo Tecnicamente Praticamente È più semplice Da fare Se mi dici Come farlo Passo e tempo Piuttosto che Mettermi in testa La nozione tecnica Mauro Non ho capito Non ho capito Sinceramente La domanda Cioè Spiegami meglio La domanda E ci torno Comunque Passo e tempo Spiegami meglio La domanda Ok Quindi Intanto Proseguo Quindi Questi sono Gli allenamenti Diciamo Base Per la corsa Su strada Da qui poi Ci aggiungiamo Le ripetute In salita Allora Le ripetute In salita Ok Prendiamo Queste tre Ok Scusate Rispondo A Mauro Quel dente Di seco Del grafico È meglio Che la variazione Sia minore O maggiore Ok Come già detto Non c'è giusto Sbagliato Secondo me È meglio Fare Variazioni Più lunghe Quindi Per me L'interval Training Parte da tre E va fino ai cinque minuti Ok Forse Questa Questa è la risposta Che tu volevi Sentirti dire Quindi A me non piace Farlo più corto Lo metto solo Lo metto soltanto Per i principianti Per quelli che Penso che Magari tre minuti Sono un po' troppi All'inizio Quindi Mi bastano I due minuti Mi raggiunge il picco E due minuti recupera Due minuti Mi raggiunge il picco E due minuti recupera Invece I più bravi Fanno Due minuti picco Cioè Fanno tre minuti ripetuta Due minuti picco Un minuto Si tiene il massimo E poi si recupera Quindi io Preferisco comunque Nella Nel dente di sega Suona male Suona Preferisco comunque Fare Quello lungo Quindi per me L'interval training È 3 4 E 5 Minuti Meno A questo punto Andiamo a fare Ripetute corte Se devo fare Interval Se devo fare Interval training Comunque Su Da un minuto Da un minuto Da un minuto e mezzo Da due minuti Preferisco 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 Farlo più corto Ok Spero di essermi Spiegato In caso Scrivi Tranquillo Non ti fare problemi Guarda Siamo qui per questo Quindi è importante Che Capisci tutto quanto Quello che ti sto dicendo Però Tenete sempre presente Che qualcuno Di voi Ha ripetute Anche corte Interval training Da due minuti Soltanto perché Magari All'inizio Non voglio farvi Forzare troppo Quindi Nella periodizzazione Magari si inizia Con 2 più 2 Poi diventa 3 più 3 E preferisco Fare questo passaggio Qui Ma è soltanto Per Rendere più semplice La cosa Tutto qua Ok Passo successivo Allora Anzitutto Posso tornare Big screen Perché Questo Credo che Anche se questo Me lo posso tenere Che Che dite Lo teniamo Facciamo così Facciamo Eccoci Un po' più grandi Allora Abbiamo detto Che abbiamo Scriviamo un pochettino Corsa in soglia Poi abbiamo Interval training Scrivo solo interval Perché se no E poi abbiamo Le ripetute corte Ok Facciamo così Soglia Scrivo un po' più Di spazio Scusate se vi do le spalle Non lo faccio apposto E Ok Queste sono per Diciamo Allenamenti In Pianura E per gare Su strada Comunque Questo è ABC Comunque Siamo alla base Tutto questo Ce lo possiamo riportare Nelle ripetute In salita Quindi In salita Si può fare Esattamente Lo stesso Lavoro E Sulla soglia È difficile Da fare Il recupero 1 a 5 Quindi Quando si fanno Le ripetute In soglia In salita Non sarà possibile Fare il recupero 1 a 5 Quindi il recupero Sarà sempre 1 a 1 Scusate E queste sono Le ripetute Lunghe Scusate Ok Che vanno Da 1 2 3 4 Km Ripetute Lunghe Corsa In soglia Sono affini Frequenza Cardiaca È simile E diciamo Che lavoriamo In soglia In salita Ok Quindi Io per esempio Sabato scorso Ho fatto Delle ripetute Lunghe Su 2 km e mezzo Con tanto dislivello In quel caso Stavo lavorando Circa Circa Più o meno In soglia Mauro Fammi sapere poi Se ti ho risposto Bene alla domanda Se Hai capito Non ti far problemi Dimmelo E Spiegami meglio E Ti ferisco tutto Ok Quindi Ripetute in soglia Ripetute in salite lunghe Ok Vanno da 1 km 2 km 3 km E vanno forse intorno Sempre al 90% Della nostra frequenza Cardica massima Quindi Più o meno Le caratteristiche Sono simili Anzi Sono quasi identiche Quello che cambia Fondamentalmente È il recupero Non è possibile Fare un recupero 1 a 5 E sarà un recupero 1 a 1 Quindi un chilometro salgo E un chilometro scendo Un chilometro salgo E un chilometro scendo Un chilometro salgo E un chilometro scendo Ok Stessa cosa possiamo fare Con poi L'interval training Possiamo fare Ripetute da 3 minuti in salita E 3 minuti di scendo Ok Quindi Tra virgolette Tutte le ripetute in salita Con sali e scendi Sono Dei piccoli Interval training E queste sono le ripetute Medie Che sono Intorno ai 500 800 metri Qualche cosa del genere Dai 400 in su E poi abbiamo le ripetute Corte Le ripetute corte Sono Dai 50 100 150 200 250 Già Iniziano a essere Un po' Sure medie Ok Quindi Ripetute corte Sono Cortissime Sono più corte Delle ripetute classiche Queste qui Delle ripetute Che abbiamo Qui Queste ripetutine qui Che vanno da 200 400 600 Metri No In salita sono più corte Le ripetute corte E dai 50 Ai 200 Metri Diciamo Dai 50 Ai 200 Metri E vanno corse al massimo Sali al massimo E riscendi giù Recuperando Correndo lentamente Sali al massimo E riscendi giù Recuperando lentamente Quindi tutti I lavori Che si fanno in pianura Si possono fare Anche in salita E In particolare Nel trail running In particolare Nel trail running Allora Queste medie Si può fare Quello che ho fatto Io l'altra volta Cioè Si trova una bella salita lunga 3 4 Km E Si sa la palla E si riscende Giù Recuperando E in questo caso Comunque Stiamo facendo Delle ripetute lunghe Delle ripetute lunghe E Comunque andiamo Ad allenare Molto la resistenza Molto la resistenza Specialmente poi Per Chi fa trail E ci sono tratti Molto Corribili Comunque Alleniamo Ci alleniamo A correre in tratti Dove solitamente Non corriamo Ok E Invece Allora Quindi Ripetute lunghe Ok L'interval Per chi fa trail L'interval Diventa interessante Perché Chi c'è online Che fa trail Ragazzi Chi c'è online Che fa trail Scrivetemi L'interval Nel trail È molto interessante Perché io lo faccio Su chilometro Verticale Ed è fighissimo Perché in poche parole Tu sali per un'ora E Lavori La salita Come se fosse pianura Quindi in poche parole Tu fai Ripetute Da Due minuti Con due minuti Di recupero Continuando a salire E Quindi io corro Per due minuti Per esempio Sul chilometro verticale Logicamente Penso A otto Al chilometro Piano piano Perché non è possibile Andare più veloce Due minuti corro E due minuti cammino Due minuti corro E due minuti cammino Intanto continuo a salire Quindi È uno sforzo continuo Nel momento in cui cammino Recupero un pochettino E nel momento in cui corro Faccio salire la frequenza cardiaca Vado fino in soglia E poi recupero È veramente Un ottimo Un ottimo Un ottimo allenamento Quindi Non so se Se scrivervelo Vabbè Penso che così Sia chiaro Quindi Ripetute lunghe Si fanno nel trail Si trovano salite Con un buon dislivello Che siano corribili E Si fanno magari Due tre volte Per allenamenti lunghi L'interval Le ripetute medie Si fanno Salendo su chilometro verticale E lì andiamo Veramente A lavorare Sul motore Sulla velocità Di salita E È veramente Un bel lavoro Comunque Tra parentesi Ce lo ritroveremo Poi Anche nella strada Io l'altro giorno Ho fatto Queste ripetute Da due chilometri E mezzo Con 300 metri Di dislivello Ne ho fatte Quattro Se non mi sbaglio E Ragazzi Sono tornato In strada Questa settimana E volavo Cioè Comunque Prendi potenza Prendi veramente Tanta potenza Che poi Va trasformata In velocità Se fate gare Su strada Però I lavori in salita Fanno Fanno benissimo Fanno Quindi Belli 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 E vanno fatti Comunque Per chi fa gare Su strada Sempre Lontano Dalla stagione Delle gare Magari Questo sarebbe Il momento Da farlo Se Se non avete In programma Magari Mi raccomando Come sempre Partite Da distanze corte Non andate a spaccarvi Subito Con distanze Troppo Intense E cose del genere Ok Quindi Riassumendo Corsa in soglia Ripetute in salita lunghe Interval training Ripetute in salita media Ripetute corte Ripetute in salita corte Sono più o meno simili Non è la stessa cosa Logicamente Allenano Componenti un po' diverse La differenza sostanziale È che In salita C'è un ottimo potenziamento Muscolare Che poi Questa potenza Si è allenata Nel modo giusto Si trasforma In velocità Nel momento in cui Poi torniamo in pianura Ed è una gran ficata E Io Ve lo confermo È successo Proprio ieri Dopo un mese Di ripetute in salita Torno in strada Lascio andare le gambe E mi ritrovo A 4 km Erano mesi Che non succedeva Quindi Sono stato Strat 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 Contento E Mauro Non mi hai più risposto E Prendo per buono Che sia tutto quanto Prendo per buono Che sia tutto quanto Ok Ok Quindi Chiaro questo discorso Possiamo anche Tranquillamente Chiudere Eccomi Possiamo tranquillamente Chiudere Lo schermo Perché non penso che Devo Devo dirvi altro E Fatemi pensare Fatemi pensare Fatemi pensare Fatemi pensare Se Mi viene Oggi ho parlato Tantissimo Scusate Acqua Ok Facciamo anche una piccola parentesi Respirazione Allora Io quello che faccio In ripetuta Dovresti saperlo Io in ripetuta Respiro 2-1 E E Poi durante il recupero Mi forzo a riprendere Il 3-2 Anche se ho il fiatone E poi Ripetuto Arrivato con Il 2-1 E in questo modo Piano piano Condiziono il mio cervello Condiziono il mio cervello A Ad abituarsi A collegare Più che altro Nel momento in cui Vario velocità Vario anche respirazione Oppure Visto nell'altro senso Nel momento in cui Vario respirazione Aumento velocità Quindi se io sto in gara E sto respirando Con il 3-2 Nel momento in cui Cambio E automaticamente Prendo il 2-1 Decido anzi Di prendere il 2-1 Automaticamente Prenderò Una Una spinta In più Una marcia in più Perché psicologicamente Comunque Il cervello Ormai Si è abituato Che nel momento in cui Vario respirazione C'è un'accelerata C'è un cambio di velocità Quindi anche se sono sfinito Vado a prendere Quell'ultimo briciolo Di forze E anche solo Comunque dando Magari Più ossigeno Ai muscoli Comunque andando In iperventilazione In ogni caso Io lo trovo Un'ottima La trovo un'ottima Arma anche psicologica Quindi Abituiamoci a variare Respirazione In base all'andatura E quando accelerate Cambiate respirazione Perché poi Comandando Questa cosa Ve la ritrovate Anche in gara Ve la ritrovate Anche in gara E può essere Ecco sotto L'aspetto competitivo Per me Quell'arma in più Per magari Fare uno sprint Finale L'ultimo L'ultimo Kilometro E andare a raschiare Il fondo E cercare Di prendere Un po' Un po' Di energia Ecco ragazzi Quindi La respirazione Anche qui Secondo me È veramente È veramente Importante Oggi per esempio Ho fatto i miei 18 chilometri Tutti con respirazione Di naso Era Era corsa lenta E E poi Solitamente Quando faccio L'allungo finale Apro la bocca Inizio a respirare E anche se Non cambio E respirazione Magari in quel caso Lascio un 3-2 Però Aprendo la bocca Comunque Cambio marcia Anche lì Perché c'è un qualcosa Di collegato Nel mental coaching Si chiamano comunque Ancore Quindi noi Ancoriamo Un gesto Un qualcosa A una sensazione A un qualcosa Questi due Si collegano insieme E A livello mentale Proprio Nel momento in cui Scatta quel qualcosa Fa scattare anche L'altra di conseguenza E quindi Sono Dettagli Che magari Possono Esservi d'aiuto Ok C'è un bel commentone Qui di Mauro Allora Alessandro ha scritto Prima Quindi Se ho la gara A metà giugno Quando devo iniziare A lavorare Sulle ripetute In salita In salita Ok Allora Fondamentalmente O si guarda Una programmazione Annuale Oppure L'altra soluzione Va benissimo Anche soltanto Fare Le ripetute Per esempio In salita Nelle prime Quattro settimane Della programmazione Per esempio Quella Di 12 Che vi faccio io Si fa Un blocco Di ripetute In salita E poi Nelle altre due Si va a lavorare Di fino Così va benissimo Se Per il trail Per il trail Invece però È diverso Ragazzi Quindi Per il trail Il discorso È completamente diverso Le ripetute In salita Devono starci Sempre Sono All'abc Come perché Fa gare In pianura Sono all'abc Le ripetute In pianura Quindi Tenete sempre presente Quello Il vostro obiettivo Quindi Alessandro Se stai puntando Al trail Anziché Alla strada Le ripetute In salita Ci sono sempre Se stai puntando Sulla strada Invece Le ripetute In salita Ci sono Nel mese precedente Nei due mesi precedenti Oppure nella Fase precedente Di preparazione Come per me Adesso È in questo momento Ok Rispondo a Mauro Tu hai spiegato bene Coach Sono io che non riesco A scriverti bene Pardon Il discorso Dei minuti L'ho capito bene Meglio sempre Comunque almeno 3 4 5 Meglio ancora Ma a livello Fisico Meglio che il Vmax Abbia delle grosse Variazioni Fra fase Veloce E fase Di recupero O è meglio Che rimane sempre Alto anche Nella fase Di recupero Il mio dubbio È Cosa cambia A livello Fisico Se il Vmax Rimane sempre Alto Durante Tutto L'allenamento O nel Caso A grosse Variazioni Allora Nel momento In cui Recuperi Comunque Il Vmax Scende Automaticamente Nel momento In cui Tu passi Da 5 Al chilometro A 6 Al chilometro Il Vmax Scende Tranquillamente Quindi La variazione Deve esserci Sempre E Mantenerlo Sempre alto Non è Fisiologicamente Possibile Cioè Tu a questa Intensità Qui Massimo Massimo Lista Intorno Una gara Da 5 Km Quindi Una gara Da 5 Km Tirata Bella veloce Parliamo di Un'intensità Che puoi mantenere Per 25 Minuti 20 Dipende Poi magari Uno dai ritmi Che ha Quindi È un'intensità Che non puoi mantenere Per tanto Ecco perché Comunque Si fa così Quindi Il Vmax Deve scendere Nel momento in cui Ricoperi Scende E Certo Dipende Dal livello Di allenamento Io Dico sempre Io Scusate Però Prendo Come punto di riferimento Proprio quello che faccio Visto che Ormai mi sto allenando Con questo Diciamo Metodo e sistema Preso da questo Coach americano Che adoro E ringrazio Mi ci sono tornato Benissimo Ormai Ha un paio di anni Che Che lo seguo Comunque Alla lettera E io faccio Ripetute Scusate Interval training Intorno ai 340 Con Recupero A 430 Qualcosa del genere È tosto Però È fattibile È fattibile E Voi Comunque Adattatelo Al vostro fisico A come vi sentite Perché magari Ragazzi Per voi Il recupero veloce Non è fattibile Quello che dicevo Prima Magari Per voi Va bene Il recupero Di corsa Lenta State tranquilli Non succede niente L'importante In questo caso È che Riuscite a fare bene La ripetuta E che Comunque Non Fate un recupero Tra virgolette Camminando Quando La La settimana scorsa Abbiamo preso Il discorso Comunque Delle velocità Di allenamento Era perché Corrado Scusa Corrado Se ti prendo In pressito Però Stava facendo Delle ripetute Da un chilometro Con recupero 200 metri Camminando Quindi era Completamente Sballato Il senso Di quello Che io dico Come allenamento Dato che Comunque Lui ha anche Un bel motore Poteva Permettersi Un recupero Più veloce In ogni caso La corsa Lenta Come recupero Va benissimo Per non sbagliare Voi recuperate Sempre qui Il penarello Non scrive più Però Qui Voi recuperate Qua Per non sbagliare Se poi Mano a mano Con l'allenamento Il corpo Ve lo permette E riuscite a spostarvi In questa zona Qui Sia con La corsa in soglia Sia con L'interval Training Per me Va benissimo Perché Comunque Poi Come detto Prima Andiamo ad Allenare Altre componenti Andiamo ad Allenare Il nostro Il nostro ritmo Meglio Che io Poi me lo ritrovo In maratona Ho detto Maratona O maratona Scusate Quindi Il recupero Deve essere Recupero Deve essere Recupero Se per recuperare Veloce Non riusciamo a fare A mantenere Il ritmo Che c'eravamo Prefissati Nelle ripetute Stiamo Sbagliando Qualcosa Spero Più o meno Di Di essermi Espresso bene Ecco ragazzi Datemi un ok Un pollice su Se 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 mi sono spiegato Però Prima di tutto Viene la ripetuta Del recupero Non ce ne frega niente Detto proprio In soldoni A stringere La ripetuta Fatta bene È quello che conta Certo Se poi Come dicevo Ci mettiamo Il recupero Camminando No Il recupero Deve essere A meno Di corsa lenta Quindi Faccio ripetuta A 4 e 30 Con recupero A 6 e 30 Perfetto Non ho problemi Per me va benissimo Invece Il tuo corpo Risponde bene Fai ripetuta A 4 e 30 Con recupero A 5 e 30 Dico ripetuta Ma mi riferisco A qualsiasi Soglia Interva Ripetute Solo un termine generico Faccio ripetuta A 4 e 30 Con recupero A 6 e 30 A 7 Va benissimo Va benissimo L'importante È fare bene Il tratto veloce Se poi Rispondiamo bene E possiamo comunque Tenere un bel ritmo Durante il recupero Che ben venga Assolutamente Allora Ok con la prossima tabella Che ti chiederò I nuovi elementi Devo sperimentare bene Ora è più chiaro Ok sì Spero di Di essermi Spiegato abbastanza bene Ecco Nel senso Il concetto è questo Comunque ragazzi Come sempre Chiedetemi qualsiasi cosa Io sono qui per questo Abbiamo questa oretta Per chiacchierare Io sono a vostra Completa disposizione Logicamente Io tiro fuori Un argomento In base a quello Che succede Durante le settimane Mi viene in mente Qualcosa E È giusto che Faccio un po' Una piccola Lezioncina Diciamo Anche se avete già Tutto registrato Nei video Quindi Tutto quello Che vi sto dicendo Adesso Già è stato Spiegato Nelle video lezioni Però Magari Ritiriamo fuori Qualche punto Riapprofondiamo Qualcos'altro Mi chiedete una cosa Ecco per esempio Adesso Abbiamo parlato Del recupero Nell'interval training Perché comunque Non era ben chiaro Faccio il recupero Più corto Lo faccio più veloce Tengo il max alto Ecco C'era qualche dubbio E Siamo più Siamo qui per questo Quindi Ragazzi Come sempre Chiedetemi Qualsiasi cosa Anzi Se ci sono delle domande Fatela adesso Che Tra poco Dobbiamo Staccare E Ok Penso che Questo discorso Sia abbastanza Sia abbastanza Chiaro Non mi ripeto più Meglio Corsa lenta In ogni caso Sul recupero E fare La ripetuta Fatta bene Poi Quando ce la possiamo Premettere Ci spostiamo Di la stessa cosa Vale per le ripetute In salita E Io quando ho fatto Le ripetute In salita lunghe Sono riuscito Comunque a fare Un recupero veloce Infatti la frequenza Cardiaca quasi Non scendeva E E' lì che mi sono Un po' Faticato Un po' Parecchio Un po' Esagerato Anche perché Non ho Non ho mangiato E stavo così Stavo vuoto Però Stessa cosa Vale per le ripetute In salita Quando poi fate Se riuscite a fare Ripetute lunghe Medie Con un bel recupero Veloce Anche in discesa Assolutamente Si Io quando faccio Ripetute Da Tra i 200 E i 500 Metri Più o meno Tra medie e corte Io Comunque riesco A tenere Salgo per esempio A 4.30 E Riscendo A 4.50 Salgo a 4.30 Riscendo a 4.50 Riesco a mantenere Sempre alto Però Ragazzi Io ho Dei tempi di recupero Diversi Quindi so perfettamente Che poi Quando vado a fare Le ripetute in salita Con i miei allievi A lezione Saliamo a 5 al chilometro A 4.50 Magari E riscendiamo giù Corricchiando A 5.30 A 6 E' tranquillissima Quindi Il recupero L'importante E' che sia completo Se poi li sento Che arrivano giù A fine discesa Per esempio E hanno ancora Un po' di fiatone Ancora Non hanno ben recuperato Tranquillamente Io gli dico Ragazzi Fermatevi un secondo No Fermatevi no Però li faccio Riscendere un pezzettino E risaliamo su piano piano Ecco Questo per dare Un po' più di recupero Perché magari Alcune volte Non è sufficiente Però Se anche qui Per chi fa trail Riesce a fare Un recupero veloce Tra salita e discesa Salita e discesa Salita e discesa Quello è buono Perché nei tratti Dove ci sono Dei piccoli sali e scendi Ci troviamo già allenati Comunque A fare Salita veloce Con recupero in discesa Salita veloce Con recupero in discesa Veloce Ed è buono Comunque È qualcosa Che ci portiamo Poi Nelle gare Ecco Con i tratti Mangia e bevi Si chiamano Qualcosa del genere Ok Mauro Vai con la domanda Allora Alessandro Per me è tutto chiaro Solo un grande età Se ho da tenere 50 secondi Sui 200 metri Ma in realtà Lavoro sui 40 40 Ok Allora Alessandro Credo che vai Troppo veloce Credo che vai troppo veloce Dovresti riprovare A fare Un test V dot Avere qualche Parametro di riferimento Oppure trova una garetta Da fare E Vedi se Ci sei comunque Con i ritmi Può darsi che sei migliorato Non so se hai fatto Un altro test Recentemente Qualcosa del genere Però È troppo Se hai 50 secondi E fare 40 È troppo Fare 45 47 Ci sta Ma Fondamentalmente Il senso è che Non ha senso Andare a lavorare Quaggiù Non ha senso Andare oltre Se io faccio Delle riprodute A 3 al chilometro Quella velocità Non la terrò mai Si allontana troppo Dalla mia velocità Ideale Non è necessario Questo punto Preferisco Preferisco Che fai Delle ripetute Magari In 47 secondi Con un recupero Più veloce Quindi Fai la Ripetuta In 47 secondi E ci aggiungi Un recupero Veloce Allora Vedi se poi Riesci a mantenere Ancora 40 44 Ok Quindi Lavora sul recupero Per adesso Ok ragazzi Io vi voglio bene Come sempre La nostra lezione Per oggi è finita Ho fatto anche tardino Ci riaggiorniamo Poi Sul gruppo Continuate a pubblicare I vostri allenamenti Fatemi sapere Quello che state facendo Come sempre Pubblicate il più possibile Di modo che io Vi controllo Vi commento Anche solo che vi faccio Il pollice su E vi dico Bravi Va benissimo Però intanto so Che vi state allenando E che le cose Stanno andando bene Quindi Mi raccomando Pubblicate sempre I vostri allenamenti E se avete domande Scrivetemi Bene ragazzi Buonanotte a tutti Io vi saluto Vi do un bacione E ci aggiorniamo Ciao ciao